No, ma io che devo fare un video, ma non è possibile! Ramona, ti prendi un video! No, fai, 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 ma questo è un video! Ramona, io mi braccio, voi terminate! No, no, guarda, ci possiamo vedere qui! Ma questo è un video, guarda! No, ma questo è un video! Vai, fai! Pippi, pippi! Grappato tu! Parpelleria F Mickey Adesso dove sta? � E' una condizione pazzesca. 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 E' una condizione pazzesca.